Buonasera, siamo qui con Paolo Fucili, autore di Direzione Periferia, i primi passi di Papa Francesco. Ecco, volevamo chiedere a Paolo Fucili, siamo di fronte ad un Papa mediatico, che ha cambiato un po' l'indice di gradimento della Chiesa, insomma. Che cosa ha comportato tutto questo? Diciamo che Papa mediatico è una definizione che va bene, se consideriamo il fatto che Papa Francesco è una persona abituata a parlare, con un linguaggio molto semplice, arriva bene alle persone, lancia dei messaggi che vengono recepiti in maniera semplice, diciamo recepiti, poi messi in pratica è un altro paio di maniche. Sugli indici di gradimento è così, è cambiato un po' il clima, io avverto questo cambio soprattutto nei mass media, nei mass media c'è un clima in qualche modo più amichevole, più favorevole alla Chiesa, però mi permetto anche di dire che gli indici di gradimento, insomma, per la Chiesa non sono un... come dire, vanno presi un po' con le molle, non sono poi quello che davvero conta, bisogna un po' concentrarsi su altro. Bene, ma secondo lei la Chiesa e la sua visione collimano con quella di Bergoglio, effettivamente? Allora, Papa Francesco vuole una Chiesa missionaria, una Chiesa aperta, una Chiesa dialogante, una Chiesa che non si chiude in se stessa, che va in cerca delle, lo dice sempre con un'immagine molto colorita, delle 99 pecore smarrite. Chiaramente da questo punto di vista penso che la Chiesa abbia molto da fare. Sì, si parla di nuova evangelizzazione, di recente, però sicuramente c'è bisogno di un impulso maggiore e Papa Francesco effettivamente ha portato uno spirito comunque più nuovo, più positivo in questo senso. E che cosa ha comportato avere un Papa con una visione un pochino più spoglia di quella che è, insomma, il reale concetto che abbiamo un po' tutti di Papa e quindi anche la sua provenienza da una realtà così difficile come quella dell'Argentina e che lo ha portato a volersi spogliare un po' di tutti gli agi. Che cosa ha comportato tutto questo? Spogliarsi degli agi, diciamo così, una maggiore sobrietà nello stile, anche in certe scelte che ha fatto. Immagino che voi vi riferite anche alla scelta del risiedere a Santa Marta, non nell'appartamento pontificio, fanno molto scalpore anche le scelte relative per dire, che ne so, l'abbigliamento, le vetture. Lui chiaramente viene da una realtà problematica, una realtà dove c'è molta povertà, molte diseguaglianze sociali e questo chiaramente è un background che ha portato lui, da argentino, da Buenos Aires, sul soglio di Pietro. Penso che questi richiami alla sobrietà, io li accolgo con molto favore, ecco, bisognerebbe non limitarsi a pensare che la sobrietà è una questione che riguarda la Chiesa. Siamo in una società dove il richiamo alla sobrietà, all'essenzialità, dovrebbe essere un po' un esame di coscienza che ci facciamo un po' tutti. Bene, e l'ultima cosa che vogliamo chiedere è, in effetti Papa Bergoglio mette d'accordo tutti o è un'impressione che si ha, perché insomma anche mediaticamente è quello che insomma vediamo? Guarda, il mettere d'accordo tutti per la Chiesa sarebbe un po', come dire, faccio un discorso magari un pochino più, spero comunque comprensibile, la Chiesa vive anche dell'essere contraddizione rispetto alle logiche del mondo, mettere d'accordo tutti sarebbe, come dire, forse non dico che non sarebbe auspicabile, però bisognerebbe chiedersi veramente se è la strada giusta. Magari una domanda, la tua, complessa da, come dire, da sviscerare in poco tempo, però vorrei magari lasciarvi con questa suggestione. Molto bene, grazie, grazie Paolo Fucili e complimenti per il suo libro Direzione Periferia, i primi passi di Papa Francesco.